Siamo all'arrivo sull'Alpe d'Uez con Damiano Cunego che anche oggi ha stupito, ha addirittura attaccato davanti a Andi e Cadena a un certo punto. È stata una tappa corta ma molto intensa, già dalla prima salita i Biga hanno dato battaglia, non mi sono mai fatto impaurire, sono sempre rimasto con il gruppo dei migliori. Infine sull'Alpe d'Uez a 3 della cima ho tentato di fare uno a lungo perché vedevo che un po' l'andatura calava, Sanchez era già andato via, a quanto ad ora era andato via. Alla fine sono arrivato con Evans e in Dischlec, quindi penso di aver fatto la mia buona gara regolare tutti i giorni, ho mantenuto il mio quinto posto in classifica e adesso ci sarà di difendere la crona.